Ciao ragazze, la mia review di oggi sarà sul correttore trio della H&M o per le italiane H&M allora sapete che da poco H&M o H&M se preferite ha cambiato la sua linea beauty che prima diciamo non era proprio il massimo e adesso praticamente hanno un sacco di prodotti, hanno dei packaging molto carini sul primo canale troverete un video dove faccio vedere la collezione prossimamente non questa settimana o la prossima perché ho comprato un po' di prodotti, ovviamente non ho comprato tutto però insomma ho provato un po' di cosine e sicuramente questo è uno dei prodotti che più mi hanno ispirata e che mi sono piaciuti adesso ve ne parlo, allora è un correttore appunto trio, il prezzo è 9,99€, esiste in due colorazioni light to medium e medium to dark, questa è medium to dark, in realtà non è scurissima c'è tipo questo qua che è il colore più chiaro, è molto chiaro, poi c'è uno intermedio e uno scuro quella light to medium era chiarissimo, cioè veramente troppo chiara, erano tutti e tre chiarissimi io volevo una cosa un po' diversa perché questo qua mi ricorda tantissimo un trio della Eve Pearl che è una marca americana, una makeup artist e perché ci sono dentro dei colori anche aranciati tipo questo che è un bel colore pesca, perfetto per le occhiaie segnate, questo qui ovviamente per me adesso è troppo scuro sarebbe stato perfetto in estate però adesso non va più bene perché appunto è troppo troppo scuro però si può utilizzare anche in diversi modi, adesso vi faccio vedere beh, direi di iniziare dalle occhiaie, come potete vedere oggi sono venute a trovarmi per l'occasione e vado proprio a prendere il colore quello intermedio, quindi questo color pesca è perfetto perché praticamente ha un sottotono aranciato quindi se avete gli occhiai che tendono al blu o al viola è veramente ottimo e vedete che però ad esempio è un po' più scuro rispetto al mio colore di pelle quindi lo vado a mettere solo sull'occhiaia dopo averlo messo prendo il colore più chiaro e lo potete prendere anche con un pennello volendo e questo lo vado a mettere sopra al primo correttore perché se avete delle occhiaie molto pronunciate la cosa migliore è usare due correttori uno appunto abbastanza scuro e un po' più caldo per contrastare comunque il grigiume delle occhiaie e poi uno che invece va a riportare il vostro colore alla normalità quindi deve essere beige o dello stesso colore insomma del vostro incarnato leggermente più chiaro in questo caso notate lo stacco perché ovviamente non c'è il fondotinta e diciamo che per le occhiaie soprattutto quando le ho pronunciate la cosa migliore è appunto andare prima con il correttore color pesca e poi sopra con o il fondotinta o il correttore quello color beige sul viso invece ad esempio non andrei ad utilizzare immediatamente il correttore cosa che adesso andrò a fare ma di solito userei prima il fondotinta per andare a comunque coprire già quel fondotinta un po' tipo le zone rosse io adesso stamattina mi sono lavata la faccia con un detergente peeling e quindi sono molto più rossa rispetto al solito perché ovviamente faccio un po' di reazione al peeling e divento un po' più rossa poi dopo fra un paio d'ore va via lo assume però intanto mi serve per farvi vedere appunto quanto copre il correttore dato che appunto in alcuni punti sembro bordeaux vedete questo è il correttore sto usando colore più chiaro e lo vado, ne metto poco perché essendo un correttore è bello e coprente lo vado a assumare con le dita ovviamente non è un fondotinta quindi non è che dovete farvi tutta la faccia come sto facendo io perché altrimenti finisce nel giro di tre volte però vi voglio far vedere senza anche utilizzare fondotinta qual è l'effetto di questo prodotto sul sito dicono che la coprenza è da media a totale in realtà per quanto mi riguarda non riesco mai a raggiungere una coprenza al 100% poi essendo un prodotto piuttosto cremoso preferisco usarlo sull'occhiaie oppure appunto tipo dove sono un po' rossa ma non sui brufoli freschi quindi sui brufoli freschi è brutto da dire ecco sui brufoli quelli appena nati che sono ancora belli caldi rossi di solito serve un prodotto un po' più secco perché altrimenti è un prodotto così cremoso tende ovviamente col calore del brufolo a sciogliersi e poi dopo a migrare, andare in giro quindi lì di solito non lo uso però è perfetto come correttore essendo cremoso sui brufoli invece quelli un po' più secchi dove di solito invece gli altri correttori fanno proprio vedere la crosticina e si vede tanto che c'è il correttore perché seccano, seccano, seccano questo quindi vedete sul mezzo viso è praticamente l'effetto del correttore dove ho usato il colore pesca sugli occhi e invece l'altro colore, quello più chiaro su praticamente tutto il resto del viso però ho sfumato bene perché essendo un correttore in realtà di solito lo userei solo su alcuni spot e non su tutto il viso lo vado a mettere di qua e torno questo quindi ragazzi è l'effetto dei due colori più chiari quello più scuro io in questo momento lo posso utilizzare solo e soltanto se voglio tipo fare un leggero contouring perché altrimenti è troppo scuro vedete però è perfetto anche per il contouring se ne mette poco così si usa tutto il prodotto e si sfuma bene così vedete voilà leggero contouring questi erano quindi diversi modi per utilizzarlo potete appunto usarlo per il contouring se è troppo scuro potete utilizzarlo per l'occhiaio o per comunque i rossori, i segni sul viso secondo me appunto come vi ho detto non lo utilizzerei troppo sul brufoli freschi però per tutto il resto è veramente un ottimo correttore va comunque fissato con un pizzico di cipria anche se non è uno di quei correttori troppo cremosi che tendono a muoversi tanto si tende a fissare tant'è che adesso io non ho ancora messo la cipra però sono, non sono untina sembra quasi che non abbia su niente praticamente solo io so di aver su qualcosa all'interno ci sono 2.5 ml di prodotto e dalla data di apertura dura 18 mesi anche se se siete come me dotate di occhiaie e rossori non vi durerà sicuramente 18 mesi perché tipo la mia parte chiara è già scesa un pochino sicuramente se siete molto 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 chiare quello migliore è light to medium però se siete chiare con delle occhiaie abbastanza pronunciati questa è la scelta migliore quella che ho fatto io medium to dark il mio voto quindi per questo prodotto è trullo di taburi 8.5 gli do 8.5 perché a me piace veramente tanto l'unica cosa è che magari rispetto a quello che c'è scritto sul sito ovvero che la coprenza è medio alta trovo che sia più media che alta non riesco mai a raggiungere comunque una coprenza totale perché più ne aggiungi di prodotto e più essendo comunque una formula cremosa tende a muoversi o non si riesce a fissare bene quindi coprenza media fantastico di più potrebbe essere un po' più problematica a parte questo è veramente buono sia per la selezione dei colori che è fatta veramente bene sia per la texture che se avete occhiai o comunque la pelle tendenzialmente normale secca è veramente buona ciao bellezza